Sono ora in compagnia di Roberto Borsi e di Alessandro Migliore, nonché coautore del libro Storia degli Rezumi e regista invece del DVD che è compreso nel libro. Allora partirei subito da Roberto, senza offesa per Alessandro. Allora Roberto è un tatuatore milanese in scena dal 98. Come mai hai deciso di scrivere un libro con naturalmente il maestro Ritosci sugli Rezumi? Diciamo che il mio interesse per il tatuaggio viene da molto prima di quello che è la mia carriera artistica. Feci la tesi di laurea che fu la prima degli Atenei italiani nel 90 e quindi dopo aver scritto questo piccolo volume la voglia di scriverne ancora mi è rimasta. Colsi l'occasione, data anche l'amicizia con il maestro qualche anno fa, di chiedergli di poter scrivere insieme un testo che fosse adatto a divulgare l'ABC del tatuaggio giapponese perché fondamentalmente la cosa che manca è sapere queste cose. Ci sono libri pieni di immagini bellissime, anche molto più voluminosi, ma che in realtà non spiegano ciò che la gente dovrebbe sapere all'inizio, specialmente in Italia. Per questo che l'idea era fare un libro per il mercato italiano. Poi cammin facendo ci siamo resi conto che il respiro era davvero internazionale. Il maestro non aveva mai scritto un libro, non ci sono libri sul maestro delle monografie così approfondite e quindi la traduzione in inglese è un pochino venuta da sé. E poi per la stessa ragione io e Alessandro abbiamo deciso di fare questo DVD e questo documentario insieme. Alessandro, come giustamente ha detto Roberto, quindi questo libro è corredato da questo DVD. Come è nata l'idea di realizzare un DVD e ci sono state delle difficoltà nel farlo? L'idea di creare questo DVD nasce per dare una completezza a quello che poteva essere il libro, nel senso che sono due progetti che vanno insieme e sono complementari l'uno dell'altro. Quindi nel libro si trovano cose che non si trovano nel DVD e viceversa. Avevamo secondo me la necessità di poter trasmettere, di aprire una finestra su quello che è il mondo, la cultura giapponese. Sì, chiaramente ci sono state difficoltà del caso, logistiche, insomma. La produzione è stata molto concentrata in poco più di una settimana, quindi insomma raccontare un mondo, raccontare delle logiche, dei silenzi è molto difficile in poco tempo, ma insomma siamo contenti del prodotto che è venuto fuori. Roberto, qual è la differenza tra gli rezumi e il resto del tatuaggio? Le differenze in realtà sono molte, principalmente per chi specialmente non è abatto ai lavori, è il non uso di una macchinetta elettrica da parte degli rezumi, perché il tatuaggio occidentale moderno si chiama appunto elettrico, perché si usa una macchina a bobine o rotativa, che incide la pelle con un alto ritmo di colpi. Mentre gli rezumi è una tecnica manuale assolutamente quasi naturale, quasi si segue il battito cardiaco, per cui c'è un rapporto diverso sia con l'opera che si sta compiendo che con il cliente che è sottoposto a questo genere di trattamento, se si può chiamare. Alessandro, hai parlato prima appunto di una cultura diversa, quindi la cultura, quella orientale, è naturalmente diversa da quella occidentale. Ci puoi spiegare quali sono le differenze? Hai avuto difficoltà nel montare magari qualche scena rispetto ad altre, perché magari appunto c'è una cultura diversa? Ma credo che la vera difficoltà sia quella di captare e cercare di... è molto ermetica come cultura rispetto alla nostra, che è assolutamente diversa, è molto più espansiva, diciamo. Loro sono molto più ermetici, ma in questi silenzi, in questo modo di fare molto formale, hanno delle loro logiche, hanno dei loro valori, che se si riescono a captare sicuramente portano il valore aggiunto, cioè lì si capisce davvero cos'è e quali sono le dinamiche, i valori che stanno dietro la cultura giapponese. Quindi difficoltà nel montaggio sì, sicuramente sì, nel senso che a volte comunque noi abbiamo un linguaggio che è diverso da quello che può essere orientale, anche nella mimica facciale, piuttosto che nei gesti, nella gestualità. Però è anche quella la cosa interessante, insomma, da poter raccontare. Roberto, ti possiamo definire un allievo del maestro Ritosci? Tu naturalmente sei anche un tatuatore dove tu, insomma, lavori, dove tu svolgi la tua professione. Utilizzi le stesse tecniche del maestro Ritosci oppure bisogna adeguarsi alle tecniche quelle normali, quindi degli attrezzi elettrici che vengono utilizzati per tatuare? Beh, ho cominciato a utilizzare gli rezumi solo per tatuaggi tradizionali giapponesi e devo dire che mi trovo molto bene, anche se la tecnica ovviamente è più lenta ed è molto particolare, per cui diciamo che in Italia ci vuole un pochino più di predisposizione per potersi sottoporre a questo genere di tecnica. Il tatuaggio elettrico è sicuramente più doloroso ma più veloce. Occorrono meno sedute per finire lo stesso pezzo che si può fare magari a mano, ma c'è una poesia completamente diversa, perfino il colore rimane in modo diverso nella pelle e quindi bisogna anche educare le persone che vogliono un pezzo giapponese tradizionale a questo genere di differenze. Che cosa, Alessandro, ti ha più colpito nel realizzare questo video, insomma, questo DVD? La cosa che più ti ha colpito appunto nella realizzazione è la cosa più bella, insomma, che hai messo nel video? Beh, oddio, è dura da dire perché ci sono tante cose belle, insomma. Sicuramente una cosa che si vede poco e magari non è, cioè nel senso noi italiani non siamo abituati, ma l'umorismo giapponese posso assicurare che è una cosa assolutamente da scoprire. Si vede poco nel DVD per, insomma, logiche anche di tempi e dobbiamo comprimere tutto in 15 minuti, quindi era abbastanza difficile. Però sicuramente il fatto, noi abbiamo un'idea di quelle che sono i rapporti interpersonali con i giapponesi, li vediamo sempre molto emetici. in realtà sono molto ironici, non si prendono mai sul serio e questa cosa spinge a voler conoscere, insomma, più a fondo la loro cultura perché non è così chiusa come possiamo pensare. Insomma, questa è stata la cosa che mi è piaciuta vedere, riscontrare e cercare in qualche modo di trasmettere in questo progetto. Roberto, hai detto che appunto bisogna educare, diciamo, i giovani e coloro che vogliono farsi appunto tatuare, farsi un tatuaggio, educarli agli rezumi. C'è comunque una richiesta da parte, appunto, di chi viene da te a farsi fare questo tipo di tecnica e se sì, quali soggetti vengono più richiesti? Diciamo che, come ha accennato il maestro, la ricerca del soggetto è molto personale. Per un problema di tempistiche, perché purtroppo gli italiani vanno davvero di fretta su troppe cose, soprattutto su quelle sbagliate, quindi cercano di avere un tatuaggio più grande e meno sedute possibili. Diciamo che l'obiettivo è il tatuaggio, allora se lo vuoi molto grande devi pazientare fino a ottenere il tuo risultato oppure si fa progressivamente più piccolo. Il soggetto ovviamente può essere puramente decorativo, come è stato detto per questioni di mese di nascita, eccetera, quindi può essere una decorazione floreale, oppure può essere un soggetto compiuto, un samurai, un eroe particolare della cultura giapponese, piuttosto che animali sia del bestiario dello zodiaco che magari legati appunto a leggende che sono più o meno note. Avendo una biblioteca abbastanza nutrita spesso riesco a, diciamo, accontentare le richieste dei clienti con un volume che magari non è stato mai tirato fuori davanti alle persone, spuntano delle immagini particolari, allora poi si sceglie. Alessandro, fare questo video ti ha incuriosito e magari ti ha messo la voglia di farti un altro tatuaggio? E se sì, quale? Beh, a dire la verità ho iniziato un progetto di tatuaggio con il maestro, insomma, da febbraio, che è venuto a Milano per, insomma, la presentazione, il libro, eccetera, eccetera. Ho iniziato un tatuaggio qui sul braccio che, insomma, in questi mesi porterò avanti. Io sono già appassionato di tatuaggi, sicuramente ho trovato, insomma, avevo un'idea del tatuaggio tradizionale giapponese e pensavo di conoscere qualcosa e in realtà mi sono trovato spiazzato. Penso, insomma, di dover imparare, tra virgolette, capire veramente a fondo quali sono le tematiche trattate, i punti, piuttosto che i tempi, come dice Roberto, sul fatto che noi abbiamo sempre questa ansia di avere subito il tatuaggio, il pezzo, la fonstrae da far vedere, in Giappone hanno delle logiche diverse. Quindi sicuramente sì, adesso lo proverò sulla pelle. Bene Roberto, per i nostri amici telespettatori che vogliono venire a Milano, vogliono farsi fare un tatuaggio da te, oppure anche per gli altri che naturalmente vogliono continuare a vedere, insomma, e capire qual è il tuo lavoro, che cosa fai, come possono contattarti? Beh, tramite la mia pagina di Facebook, ho anche la pagina dello studio che si chiama Primordial Pain, c'è il sito che è primordialpain.net dello studio, basta mandare una mail e non avere fretta. Invece Alessandro, tu prossimi progetti, che cosa vedremo, che cosa stai realizzando? In realtà progetti ce ne sono molti, soprattutto sempre riguardo al Giappone. Nei prossimi mesi, insomma, abbiamo in fase embrionale un grosso progetto importante in Giappone con il maestro Ritoshi, quindi insomma, siamo in fase di preproduzione. Per ora, insomma, c'è un sito internet, che è quello dell'editore, che è chopsticksproduction.it, dove ci sono varie informazioni riguardo al libro, riguardo al DVD e poi chiaramente le pagine Facebook, sono tutti i vari aggiornamenti riguardo a quelle che sono poi adesso i progetti in divenire nei prossimi mesi, insomma, per tenere aggiornati i follower. E allora in bocca al lupo ad entrambi e ci vediamo allora al prossimo libro, al prossimo DVD. Certo, assolutamente. Alla prossima convention, sicuramente. Certo, assolutamente.